Sono Olga Ambrosanio dell'associazione Ulaia Arte Sud Onlus di Roma e siamo qui a Perugia per iniziare una nuova amicizia, una nuova amicizia con l'ONG TAMAT. Abbiamo una conoscenza particolare dei campi profughi palestinesi in Libano dove operiamo ormai da quasi dieci anni in diversi campi, soprattutto nel campo delle attività ludiche con i bambini, con le donne, in particolare con workshop. Abbiamo introdotto lo shatsu nei campi profughi e stiamo assistendo a qualcosa di veramente meraviglioso perché vediamo che in una società dove purtroppo c'è una grandissima carenza, soprattutto per quanto riguarda la salute, stiamo assistendo a qualcosa di veramente bello perché le donne incominciano tra di loro a curarsi di questi piccoli disturbi fisici. Quest'anno abbiamo proposto l'invito a Kaula Kalaf, la direttrice del centro di salute mentale, consultorio del campo profughi di Elbas in Libano. È un invito particolare che nasce soprattutto dalla visibilità che le associazioni italiane e io credo mondiali si stiano prefiggendo di dare in questo momento ai palestinesi anche per raccogliere l'invito dell'ONU che nel novembre scorso ha dichiarato 2014 l'anno di solidarietà con il popolo palestinese. L'impegno nostro è quello di dare voce a questo popolo martoriato oggi ancora di più in Libano per gli eventi che stanno accadendo dalla vicina guerra in Siria. Io vorrei introdurre Kaula Kalaf che ci parlerà in particolare del suo lavoro nel consultorio, nel centro di salute mentale, in particolare in questo momento in cui abbiamo circa 50.000 profughi palestinesi dalla Siria. Mi nome è Khawla Kalaf, sto lavorando per Bait Atfal al-Samud. È un NGO palestiniano che lavorano in palestiniano campi in Libano. Questa istituzione organiza molti progetti, uno di loro è un progetto mentale, un progetto di salute mentale. È un centro di guida di famiglia. Questo programma è proporzionato servizi per la salute mentale e diversi specializzati, come psichiatria, psichoterapia, terapeccia, 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 e che sono iniziato a fare un'invito per i palestiniani in Libano. Ma ora, come abbiamo iniziato, sento il conflitto e la crisi in Syrià, abbiamo iniziato a dare anche servizi per i palestiniani in Libano, perché sono in Libano e sottolinearono dentro del campi di libano. Io sono qui, sono invitata da Ulaia a visitare l'Italia, e ora siamo in questa città, per essere in francese con Tamata, e anche per cooperare con loro, perché abbiamo bisogno di palestiniani, e stiamo soffermando molto in Libano, vivendo senza i diritti civili, non è permesso di accettare a alcuni servizi dal governo lebanese, perché stiamo cercando di supporto e solidarietà in diversi paesi europei, o in paesi arabici, o in altri paesi del mondo. Sì, vorrei aggiungere che avremmo il piacere di portare Caula, oltre che in tre incontri a Roma, e oltre che a Perugia, a Napoli, in un incontro con la comunità palestinese e a Isernia. Ciò che ci sta anche molto a cuore sarà l'incontro del 23 maggio a Roma, all'interno dell'università, dove i ragazzi di medicina e mobilitazione cercheranno di farci incontrare addetti alla salute mentale, psicologi, psichiatri, fisiologopedisti, e speriamo che anche lì possa nascere una nuova amicizia, in modo da, anche con volontari, da supportare questa realtà che veramente in questo momento è in sofferenza. Per cui il 23 maggio, io vorrei ricordarlo ad associazioni di psicologi in tutta Italia, chiunque mi sta sentendo in questo momento, saremo all'interno della Facoltà La Sapienza, nell'Aula A del Dipartimento di Igiene. Venite e potrete ascoltare un intervento tecnico da parte della dottoressa Caula Calaf, che ci spiegherà come lavorano con le difficoltà che ci sono oggi nei campi, vecchie e nuove difficoltà.